ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi facciamo qualcosa di un po diverso infatti andiamo a fare un giretto in fuoristrada qui nelle nostre zone non so sinceramente dove mi portano penso neanche lui lo sappia abbiamo preso il vitaria quello quindi adesso noi ci vediamo tra un po' magicamente con i caschi e penso in mezzo alla motta quindi 1 2 3 tipo improbabile la cosa stiamo facendo delle cose con una macchina non adatta mi sa che il video viene un po mosso mi sa è chiusa allora dopo aver girovagato per una quarantina di minuti in mezzo ai boschi abbiamo scoperto che il freno a mano non tira mi dispiace per le riprese ma ho preso su solo la gopro in mano ma anche mentre la sul cofano sarebbe stato un po casino perché ci vorrebbe qualcosa di stabilizzato forte perché abbiamo fatto le strade molto difficili siamo in mezzo a niente zona direi civitella di romagna penso adesso ripartiamo stiamo capendo se si può passare o no e poi andremo se siamo in tempo a vedere una macchina da corsa una macchina da corsa speriamo non 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 Let's go! Let's go! Let's go!